Si fa presto dire punta sui rigoristi perché hai dei bonus più o meno assicurati all'assa del fantacalcio. Io stesso sono uno che ci punta molto sui rigoristi, però i rigoristi non sono tutti uguali e in questo mio studio sui rigoristi ti dimostrerò quali sono i rigoristi migliori da puntare all'assa del fantacalcio e quali potresti, non dico, evitare comunque sia non tenere in considerazione almeno per quanto riguarda il fattore rigore. Se stai cercando un'applicazione che ti aiuti a fare al meglio la tua asta del fantacalcio ti consiglio FantaAlgoritmo. FantaAlgoritmo è un'app fantastica perché ti segue durante l'asta, è proprio il tuo compagno di squadra. Durante l'asta ti dice chi puntare, quando chiamarlo e quanto pagarlo. Poi a fine asta fa uno studio sulle varie formazioni e ti dice chi ha fatto la squadra migliore e chi secondo lei vincerà il fantacalcio. Tra l'altro hanno appena migliorato anche l'algoritmo. Trovi FantaAlgoritmo il link qui sotto in descrizione. Ricordati di usare il codice sconto FantaGall20 che ti fa risparmiare il 20% su qualsiasi abbonamento tu volessi fare. Che poi la cosa bella è che FantaAlgoritmo ti segue anche durante la stagione, che ormai tra una settimana bisogna buttare giù la formazione, e ti consiglia proprio chi schierare in base alla tua formazione. Di fatto ti consiglia la formazione, poi decidi tu se applicarla o meno. FantaAlgoritmo, codice sconto, FantaGall20, link in descrizione. Ti dicevo, i rigoristi ti danno un discreto vantaggio perché sai che hanno l'occasione di portarsi a casa dei gol, tra virgolette, facili più volte rispetto a un giocatore che magari non batte i rigori. E questo è un grande vantaggio, soprattutto magari se il rigorista non è proprio un attaccante, magari un centrocampista. Sono bonus aggiuntivi da valutare. In questo studio che ho fatto ho valutato i bonus che portano normalmente questi giocatori rigoristi, ho valutato quanti rigori aveva avuto quella squadra di appartenenza l'anno scorso. Perché questa è una cosa molto importante, se io ho uno che è rigorista, ok, poi la sua squadra batte due rigori all'anno, capisci bene che è rigorista fino a un certo punto, te ne fai il giusto. E poi ho tenuto anche considerazione di quei rigoristi in ballottaggio. Quindi ho voluto dividere i rigoristi per rigoristi top, rigoristi medi e rigoristi bassi, scarsi diciamo. Quelli per cui potresti anche fregartene del fattore rigore. Qui c'è la mia slide, te la spiego molto velocemente. Gli abbonati ce l'hanno già e se la vuoi anche tu ti basta fare l'abbonamento a livello base del canale, hai tutte le mie slide, comprese le divisioni in fasce dei vari giocatori, tutti i ruoli, basta l'abbonamento da un paio d'euro, clicca sul tasto abbonati qua sotto. Praticamente tu qui hai il rigorista, questi sono i top, Berardi l'anno scorso il Sassuolo ha battuto 10 rigori. Ora andiamo a commentare Berardi, già è uno che fa un botto di assist perché batte anche qualsiasi tipo di calcio piazzato. I 10 rigori per Berardi possono essere 10 potenziali gol, fai che ne sbagli un paio, 8 gol. Per cui non è affatto fatto male. Subito dopo di lui, dopo poi fino a un certo punto, c'è Quara Schelia. Lui oltre a battere i rigori fa tantissimi assist. L'anno scorso il Napoli ha avuto 10 rigori a favore. Chiaro che l'annata appena chiusa del Napoli è stata un'annata eccezionale, però la squadra più o meno è quella. Cambia veramente poco il Napoli di quest'anno da quello dell'anno scorso, cambia molto l'allenatore. Però vedremo. Poi troviamo Dybala, anche se ti devo dire che preferisco Immobile e Orsolini. Ad ogni modo Dybala l'anno scorso ha saltato alcune partite per infortunio. Già adesso ha avuto un piccolo acciacco, ma vedrai che ci sarà per la prima di campionato. La Roma l'anno scorso ha avuto 10 rigori. Ora il rigorista dovrebbe essere sicuramente lui, al netto dell'attaccante che può arrivare, forse Zappata, lì bisognerà poi vedere, magari cambieranno le gerarchie sui rigori. Ad ogni modo se Dybala non dovesse avere grandi infortuni potrebbe essere un attaccante da una quindicina di gol anche grazie a rigori. Ciro Immobile, per me è un attaccante che andrà sulla ventina di gol più o meno e avere anche questi 8 rigori a favore potrebbe volere dire tantissimo. Tra l'altro Immobile è su Starks. Starks è all'exchange dove compri e vendi le valute ufficiali dei giocatori, ci sono proprio i token con tanto di licenza, quindi potresti fare dei guadagni se becchi i giocatori che possono andare ad esplodere. Ma oltre a questo, che è interessante, sì ma secondo me a uno che ama il fantacalcio gli interessano più i giochi che ha Starks e di giochi ne ha ben due, col primo gioco ad ogni turno di campionato Starks brucerà una certa quantità di token del giocatore a seconda delle prestazioni che farà. Ad esempio in questa giornata qua di Immobile ne sono stati bruciati 7000 token e tu sai bene che meno token ci sono e più questi token aumentano di valore. Quindi se sceglierai i giocatori che secondo te faranno buone prestazioni giornata per giornata, i loro token dovrebbero diminuire e quindi aumentare di valore. Il secondo gioco è proprio un fantasy game in stile fantacalcio, dove tu ad ogni turno vai a schierare 5 giocatori e a seconda del voto che prenderanno, dei bonus che porteranno a casa proprio in stile fantacalcio e a seconda anche delle quantità che avrai schierato di un giocatore rispetto all'altro, farai un certo punteggio. Ci saranno classifiche settimanali, mensili e annuali con ricchissimi premi in palio. Entra su Stax, passando al link che trovi qui sotto in descrizione, avrai per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposito. Il primo deposito deve essere almeno di 20 euro. Oh, puoi farmi sapere chi hai comprato, eh? Poi troviamo Orsolini, ragazzi è un centrocampista, batte i rigori, l'anno scorso ha fatto 11 gol. Ok che c'è anche Arnautovic, ma vedrai che i rigori continuerà a batterli Orsolini. Dopodiché, un po' a sorpresa, qui nella top ti metto Vlaovic, perché comunque sia la Juve non ha le coppe, l'anno scorso ha abbattuto sei rigori e secondo me c'è una buona possibilità che Vlaovic vada a fare quella quindicina di gol. Adesso non dico una ventina come ci si aspetta da un top, però se non avrà problemi di Poubalgia, se Allegri lo farà giocare come si deve, per me quella quindicina di gol Vlaovic ce li ha in canna. E poi c'è Lautaro, sì è vero che l'Inter l'anno scorso ha avuto solo cinque rigori, che sono pochi, però quest'anno è un'Inter migliorata, Lautaro dovrebbe rimanere il rigorista, poi vedremo chi arriverà come suo partner d'attacco e quindi Lautaro per me è un top attaccante anche perché solo con questi pochi rigori è arrivato sulla ventina di gol e ci arriverà anche quest'anno. Prima di andare a vedere i rigoristi medi con la mia spiegazione ti consiglio di seguirmi. Io sono Michele e ti aiuto col Fanta Calcio, come vedi faccio diversi studi sul Fanta, ti dico anche proprio nomi da puntare, scommesse eccetera, questi adesso sono studi che scommesso sono molto utili perché queste slide qui all'asta ti aiutano tantissimo, te le tieni sotto e sai più o meno chi andare a puntare, anche tutte le mie divisioni in fasce. Comunque sia iscriviti al mio canale così non ti perdi nessuno dei miei consigli, poi oltre ai consigli ci sono anche le aste in live, la prima sarà giovedì alle ore 18, sarà un aste in live tra 10 youtuber, tutto ricavato va in beneficenza e vedrai una vera asta, quindi saprai anche i preff e poi andrà in via i giocatori. Quindi non dimenticarti Fanta Calcio YouTube Italia giovedì alle ore 18. Proseguiamo con i rigoristi medi, Scamacca, l'Atalanta l'anno scorso ha battuto 7 rigori, ok, però non siamo sicuri al 100% che sarà lui rigorista e non Luckman, quindi io te lo metto qui comunque, però ad ogni modo considera il fatto che potrebbe non essere rigorista, comunque un attaccante scommesso i 13-15 gol ci può arrivare. González, l'anno scorso la Viola ne ha avuti 6, lui dovrebbe essere rigorista, è un attaccante sulla decina di gol all'anno. Strefezza, ecco, questo avrei voluto metterlo nei top, solo che è cambiato l'allenatore, potrebbe rendere un pochino meno, così dicono, comunque l'anno scorso il Lecce ha battuto 6 rigori e lui è un centrompista, quindi fuori ruolo, ci sono qui come fuori ruolo solo lui e Orsolini. Giroud, 6 rigori battuti l'anno scorso dal Milan, è comunque il titolare, c'è il problema che faranno un po' di turnover e comunque l'età avanza. Sanab è da considerare perché nonostante due rigori battuti dal Toro, l'anno scorso ha fatto 12 gol. Metti mai che possa avere un paio di rigori in più, chi lo sa, potrebbe arrivare anche sui 15. Poi c'è Beto, l'anno scorso l'Udinese ne ha battuti 2 di rigori, adesso che non c'è De Olufeo dovrebbe essere lui rigorista, ad ogni modo è un attaccante sulla decina di gol. Dia te l'ho messo qua perché l'anno scorso la Selenitane ne ha avuti 2. Ok, c'è il dubbio se il rigorista sarà lui o Candreva, quindi è questo che mi ha frenato a metterlo in top, anche se ha battuto solo due rigori. Cioè, fossi sicuro che è Dia rigorista, allora ti direi un top. Comunque sulla quindicina di gol ci può arrivare. Metti mai anche che ne batta un paio in più, stesso discorso di Sanab. Cicciocaputo, te lo metto qua nei medi perché secondo me l'Empoli è migliorato e lui sulla decina di gol ci può arrivare. E ti metto anche Ngonge nei medi, in realtà questo è proprio una scommessa. L'anno scorso l'Elas ha avuto un solo rigore, potrebbe averne qualcuno in più. Ngonge ha fatto 5 gol in metà stagione, in un'intera stagione per me sulla decina di gol ci arriva, quindi Ngonge è da considerare tantissimo. Rigoristi bassi. Caprari. Il Monza l'anno scorso ha avuto 6 rigori, potrebbe arrivare anche un altro attaccante, magari il rigorista diventerebbe l'altro attaccante. Ad ogni modo Caprari l'anno scorso ha fatto 5 gol, non è tanto da considerare per il fattore rigore secondo me. Ray Teghi, te lo metto qui perché lui per me comunque può arrivare oltre 10 gol. C'è il fattore rigore che non si sa se li batterà lui, io credo di sì, Ogd Monson, quindi c'è quel dubbio lì. Tu prendi uno che non lo sai se è veramente rigorista. Kuni, dovrebbe essere lui rigorista o caso, ma penso di più Kuni. Non credo che farà tanti gol, credo che comunque possa arrivare sui 7 gol. La Padula, adesso infortunato, sarà via un top. Probabilmente alla fine per un po' gli batterà Mancosu, quindi Mancosu potrebbe essere interessante. Questo era il mio studio sui rigoristi di Serie A per il fantacalcio. Se ti è piaciuto il mio lavoro, fammelo sapere con un like e lasciami un commento. Secondo te chi saranno i rigoristi? Del Cagliari, del Genoa e dell'Atalanta, lì dove ci sono quei casi un po' dubbi. Qui ti saperanno degli altri contenuti, potresti trovare qualcosa di interessante. Ciao e buona stade del fanta a tutti. Oh, non dimenticati di premere il tasto Iscriviti, eh?